Tutto procede come da programma per l'allestimento del grande palco di Piazza del Plebiscito per la notte del 31 dicembre. Lavoro in corso anche nel giorno di Santo Stefano, un rush necessario per permettere le prove del concerto che dovrà rendere Napoli, dicono dal comune, simile a Barcellona o a Berlino. Trasporti non stop per la linea 1 e la funicolare centrale per la notte di San Silvestro, con l'apertura straordinaria anche dei principali parcheggi di interscambio per accogliere chiunque voglia arrivare in città per godersi lo spettacolo, in programma proprio su quel palco. È insuavvitabile i bottari, Jimmy Sachs, Arisa e Peppe Iudice con tutto il suo gruppo di colleghi. A condurre la serata Francesco Mastandrea, Francesco Procopio e Daniele Decibel Bellini. Poi, prima del concerto e a seguire dalle due di notte in poi, il consueto spettacolo pirotecnico che aprirà i festeggiamenti in DJ set alla Rotonda di Iaz e a Piazza Vittoria. Quest'anno, ha detto il delegato del sindaco per l'industria musicale e l'audiovisivo, Ferdinando Tozzi, abbiamo puntato in tempi non sospetti su Rose Villain e The Colors, due big di Sanremo 2024, così come su Joliet, altro big di Sanremo inserito nella giuria del contest dei giovani musicisti. Ma il programma vuole rivolgere la massima attenzione a tutti, in modo trasversale.